mica andaggi con sti cazzo di cessi, tutti gli scorpi arrivano qua tutti gli scorpi ci hanno perso la catena qua, tutti si c'è un sasso apposta, marcato c'è un sasso, tutti fai qualcosa ma sta diventando buio ma niente, vai, adesso ci possiamo dobbiamo allungarla su, è facile no, gli ho detto, sganciare la falsa maglia che facciamo prima adesso se sganci quella lì, vieni indietro, basta, la porti di via ma sarà sicuramente sotto lì, è garantito no, già l'ho sganciata, era su a cavallo addirittura, l'ho già tirata giù perché se appunti la, se non c'è la ruota, dobbiamo andare giù è solo quel pezzo qua che è molle via, 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 via dai che facciamo la bacchetta via, via, la bacchetta lascia andare lì il meccanico dai, il carcere in casa no, ma dai, c'è molto l'uomo c'è molto l'uomo, non l'ho visto da lontano che era così, incazzata sì, non l'hai incazzata vabbè, dai il problema è in marcia, sicuramente, giusto? è per forza no, ma scorre il pignone scorre perché è andato giù prima l'ho visto io che è andato giù oh, sei lì, siamo a cavallo gancia qua e l'abbia finito Diego, che cazzo vuoi? non è il momento giusto ma ascoltami bene amico adesso non è mica il momento che siamo presi con un cesso di moto ti chiamano moto protetto qua è un valmolini, perché? un valmolini a cavallo di un sasso non di una valagnotta sono i sassi qua sono qua a smontare una pezza di scorpa cosa vuoi? dimmi eh, siamo qua ha voluto fare l'ultimo operatore mi senti in tutto e tutto bastardo senti, senti si è piaciuto la catena a uno cos'è che ha? eh, ho qua il tuo cartello con mamma cazzo oh, mo si che si ragiona che cazzo vediamo dopo, dai scala, eh ma scavalla là scavalla da una parte sembra facile se vuoi ti porto un po' di debiti occhio, non c'hai la maceta in figa tagliamo anche la catena se la rompi ti serve ce l'ha qualcuno la faccia maglia ce la spapi ce l'ha è bloccato quel coltello qua non si blocca l'ultimo ancora famoso ma scusa che cazzo allora se c'è quello se c'è la qualcini così adesso se vuoi la puoi ruggare da questa oh prendila oh che non perdano la qualcini di tutto aveva ti ricordi di Andrea così taci cosa la sfiga ingoiartele devi cagarcela fuori dopo madonna è una finza farsa maglia sono fatte bene guarda che fosse oh bravo buon sticco oh là voce a tirarla da qua guarda fatto due fatto quello ben finito si puoi andare porta su e vai su dove? provare che sono venuto a piedi e sarà in marcia provo a dargli una mezza accensione che magari ha sputato fuori metterli in moto io dico metterli in moto no no fai uscire il pignone Simo fai uscire il pignone si l'abbiamo tolto di il sese già tolto ho tolto apposta dai giù oh boh posto mettiamogli la molti spalla che fa prima? sigerino qua c'è la zambini sono l'ingoiato ce l'avevo in bocca quindi ti piace dare che caga poi no questo ci serve di metterla su il cacciavite si cacciavite quella unta e poi il telefono si mi immagino il telefono tu non c'è il telefono ecco perché è caduta la catena guarda è tutto molle già che ci sei fagli un po' di mano pulisci anche il filtro che lui tira le viti e che hai capito perché è caduta la catena e che hai capito perché è caduta la catena e che hai capito perché è caduta la catena e poi una cina troppe cose se metti su questa catena io mi pianto che sei arrivato chi vuoi salso ma dopo c'è da tenere dietro il talo no mi tilti lontano il baguette del Gaetano stai filmando almeno certo un'ora e mezza di filmato e vai a piano il furgone devo arrivare se Dio vuole come non c'hai la non c'hai la brugola porcone si spacca il level mozzo eh si la spacca su tutto bolle così guarda che è dentro qua si deve essere dentro qua in quella piccolina ci devono essere le brugole quella più piccola se ne ho capito ma te stai lavorando la brugola ce l'hai la brugola ce l'hai è la 13 litro non ce n'è anche una pinza no la pinza non ce l'ho ecco la torx ecco la torx ecco la torx è la 17 litro ah c'è assurdo la torx siamo nella merda totale se ne hanno la 13 no se ne hanno una pinza a tenerle dito ne ha c'è mica la pinza no c'hai la pinza dai dai che ci arriva ci sono stato giusto l'altra volta gliela leghiamo in spalla dai vediamo due cinque se siamo come con la casa bravo esatto ma non potete mettere la scuola che magari era meglio cazzo vi vedo intelligenti vi vedo pronti oggi aspetta che c'è lui in bocca vuoi aspettare che caga questo abbiamo caricato tutto siamo andati al bar per l'aperitivo tasca vieni ascolta e spanchi io volevo infatti ho detto no no se c'è da pensare no siamo in democrazia e quindi niente qua senza 13 non facciamo niente e no non riesci a tirarla dietro se non la tieni come fatti come no con le dita d'acciaio che c'hai almeno una tiratina appena appena ok non abbiamo una pinza cazzo tra tutti non abbiamo una pinza questo di chi è? che te prega lascio qua per la prossima volta mettiamo dietro tanto qua ci castiamo sempre sai quanta roba c'hai già lasciato in giro è un bastardo sai quanto gli è successo Kiko? anche a me qualcun altro vecchio pinza Simone non è neanche una 13 no no ma anche magari si appoggia sul sasso così chiave non niente non chiavi c'ho brugole ma dietro cos'hai una 10 no una 13 no una 13 no una 13 prova non riesci aspetta con un brugolone grosso o con la chiave questa dai cartigenica del cazzo è un caso di calare aspetta con un brugolone grosso eh si magari se il pennello lì per non farlo ballare tanto non c'è una leva della frizione no è il freno per non farlo ballare tanto almeno eh una mezza tiratella eh tanto presto cosa? meglio cacciavite cacciavite e ce la luce sono andati a casa qui ora? no sono andati adesso la cascatella non la vediamo più vedi che si ferma a te mi stai già su in cascatella vuoi? eh si eh si ok io non mi sono neanche fermato è inghiacciata mi sa che la mia bronchite diventa polmonite qua speriamo di offrire oh ma sta casa sopra qua? è un po' mai vista figlio come hai mai vista? oh che spero di che mai ai tempi che lui faccia l'italiano qua c'era quello che ti correva dietro con la folcia c'era da correre per quello figlio devi fare la manetta no 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 perché se no te fulciava eh c'era il sentierino che scendeva ma a mattino a mattino ma a mattino ma a mattino ma a mattino e andavi dopo è morto basta è morto anche purtroppo questo di zampi butta dentro di nuovo questo è tuo che piuttosto che niente viene un posto anche il piuttosto questo è il coltelletto no non è mio di chi è? di Ago cioè ma portare una multifunzione al posto di questo no eh vai tirala su tirala su una parola grossa manutenzione effettuata Ale come nuova vai 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 via ai tu vai a scopla è bu è bu